Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul mio canale, bentornati per questa carriera allenatoria con il Stalford La finale contro il Liverpool e quest'oggi abbiamo il capitano, Littana Stallion, a casa mia ragazzi Ciao ragazzi, come promesso qua ZV oggi volevo esserci e sono contentissimo di essere qui a giocarmi questa finale pazzesca insieme a lui Fra, è qualcosa di spettacolare, è qualcosa che... cioè, fai vedere la fana Lascia abbraccio, pronti ad alzare la coppa Ragazzi, io non so, cioè, non voglio chiedere neanche mi piace perché lasciatelo veramente tutti, cioè, tutti Mai nessuno in Italia ha fatto una cosa del genere, infatti io, Luca, ti ringrazio perché sei super disponibile Quindi, cioè, veramente, non è da tutti Grazie Ti ringrazio e niente, abbiamo anche un regalo per voi Perché? Luca ha portato la sua maglietta, maglietta del frosinone della Coppa Italia, tra l'altro E niente, la regalerà al ventesimo, anzi no, 20.001, abbiamo detto così Le regole sono queste Al 20.001 follower sul suo canale Instagram, ci mancano pochissimi Sì, mancano 200-300 Ci siamo quasi Si scanneranno adesso, lo sai, lo sai, vero? Lo so, lo so Quindi, ragazzi, seguitelo su Instagram E niente, Luca Siamo pronti Sei pronto? Prontissimo Abbiamo il Liverpool Eh, lo so Lo sai che la scorsa... Lo so, lo so Più o meno tre annetti fa, quattro annetti fa abbiamo perso la finale Proprio contro il Liverpool Ho seguito, ho seguito tutte le tue puntate So, per filo e per segno tutto quello che è successo E quello che spero succederà oggi Luca Mi porta a casa a stare vittorie Hai 76 Bene, sono cresciuto di uno Sei cresciuto di uno Hai 76 di overall Però Guarda la resistenza Eh, sto a pezzi Hai 41 di resistenza Poi, cosa ne pensi del Matador Cavani Che è arrivato Non l'ho mai giocato Sempre fortunato Vabbè Hai picchiato, dai Eh, nello spogliatoio come ti trovi Con un 36enne Esperienza Eh, beh Ti racconta Buona esperienza Cavani, sai Ti racconta delle notti di Champions Eh, beh Poi, vabbè Cosa ne pensi di questo attacco? Cioè, stai facendo benissimo anche tu e Musa Barro Partiti dalla panchina Però quando entrate Fate bene È una grande squadra Cioè, alla fine ha vinto Il campionato Avete vinto la Championship Alla fine, certo Adesso sei in premio con questa squadra Poi fare bellissima figura Con chi ti trovi meglio Di questo attacco? Con scuffetto Scuffetto, è vero È vero, è vero Esatto Loader, se no Vabbè, avete Lui è più piccolo di te Sì Lui ha 22 anni Tu ne hai 25 Vabbè dai, siamo lì Mi scambiate tre anni Quindi dai, gli puoi insegnare qualche Qualche cosina Mentre invece Pierino Pierì Cosa l'ha già lasciato Però Il calcio è così Il calcio è così Il calcio è questo Vi sentite ancora? Come no E banderoidi? Eh, ho fatto un bel pezzo di me Eh, diciamolo Tu l'hai sentito in privato? No, no Non ho voluto No No, non ho voluto Ma lui Cosa diceva in uno spogliatoio Prima di Che voleva andare via Non voleva più stare qua Ah, lo diceva anche Lo diceva anche i compagni Sì, lo diceva Madonna mia Assurdo, assurdo Eh, niente Mentre invece Freelkid È un po' l'hanno scorso È un giocatore storico proprio Sono rimasti Freelkid Luis Mini Perché comunque L'abbiamo preso più avanti Cioè Della vecchia guardia Alla fine siete rimasti Tu Freelkid E Loder E Loder Un pochino mua Ramos Sì Però siete rimasti voi Pochissimi C'è Justice Dominion Che l'abbiamo mandato in prestito È vero Però Dai Vecchio guardia Sempre vecchio guardia E poi c'è anche Thomas Sante Che sono in prestito loro Quindi diciamo che L'anno prossimo torneranno Questa ipotetica finale Anche Anche loro Anche per loro Dai Allora Luca Adesso Ci siamo Ci siamo Tutto pronto Per questa finale di Emirates F Cup Se vinciamo siamo in Europa League Mamma mia L'anno prossimo L'anno prossimo bisogna andare a spaccare Tutto quanto in Premier League Ok ragazzi Tutto pronto Abbiamo modificato un pochino la formazione Perché effettivamente L'Italia Staglia è un capitano Quando mi ricapita di verlo qua Di bianco Non hai tutti i torti Quando mi ricapita Quindi anche se sei un pochino stanco Facciamo questo sforzo Facciamo questo sforzo Abbiamo questa partita che è troppo importante È troppo importante Luca Concentriamoci adesso È bomba Dobbiamo spaccarlo questo Liverpool Forza Dobbiamo portare a casa la vittoria Per loro magari Una semplice finale di F Cup Noi ci giochiamo la stagione E ci giochiamo una partita D'orgoglio Una vendetta Ci giochiamo tutto noi Ci giochiamo tutto quanto Quindi ragazzi Io direi Di andare in campo La fascia da capitano C'è C'è anche lì Quindi bisogna Commenorare la finale La dobbiamo alzare questa coppa Forza Sono venuto qua apposta La dobbiamo alzare ragazzi Oh Io non so nemmeno che squadra abbia il Liverpool Vediamo Adesso vediamo Ragazzi Iscrivetevi al canale Seguiteci su Instagram Assolutissimamente Eccoli L'Italia Staglion contro Virgil van Dijk Gran giocatore Quello di sinistra Anche L'altro Un po' meno Oh I due capitani diciamo che La voglio portare a casa Sono curiosissimo di vedere chi ha il Liverpool Già abbiamo visto che hanno van Dijk Quindi È già un bel po' Un bel giocatore Eh beh In difesa In difesa farà abbastanza reparto da solo Tra l'altro Sei tu quello che deve dribblarlo Eh bene E' vero Sei tu Ci proveremo Ci proveremo in tutti i modi È una sfida proprio tra Tra capitani Io sono tesissimo per questa Finale Perché comunque Ci giochiamo la stagione Come ti ho già detto È importante Siamo nello stadio delle grandi occasioni Com'è Com'è secondo te giocare una partita così È un'emozione Penso sia un'emozione Eccezionale Sai L'ansia Per chi non è abituato a fare queste partite È alle stelle Nello spogliatoio come Nello spogliatoio si respira un po' D'aria d'ansia Però Li hai motivato da capitano Cioè ti ho motivato da capitano E vada lì Giocare davanti a questa gente In questo stadio È un motivo d'orgoglio per tutti A Wembley Oh A Wembley Fino a Wembley Dalla League 2 fino a Wembley Ti ho preso che avevi una cosa sola di un milione E adesso Magari alzi Quella coppa Che guardi Guardi Ma non tocchi Non posso toccare Non si tocca perché porta sfiga Guarda che occhiatacce che gli fai a Van Dijk Lo sto sfidando Allora le occhiatacce Comunque ragazzi Tutto pronto Stiamo per entrare Concentrati Adesso andremo a vedere le due formazioni Loftus Cic Due gol Nella scorsa partita Quindi sarà un buonissimo giocatore Come dire Però Alla fine tu sei più offensivo Quindi questo è più da Viega Douglas Lewis Loro sono carichi No li conosci Sono carichissimi Sono due testa Eh Due testa Eh Capito Sono due teste dure Qui l'abbraccio Dei Miral Dei Miral e Tomigliato invece Come li hai visti Ti danno un po' di fiducia Sì Molta Molta fiducia Sono veramente forti Beh anche loro È un'ottomostrato Quindi Anche loro comunque vengono George Bello mi sembra un po' scattoso Un po' così Lui è anche negli spoiler Sì Un po' così Quello un po' giocarellone Bravo Qua invece è Minamino Che quest'oggi viene Spostato sulla fascia Mo Aramos Che fa il discorso motivazionale A me si è un grande motivatore Secondo me è quello Con più over Per questo glielo fanno fare Anche Eh Si sente la differenza Di over Negli spogliatori Chi sono quelli che se la tirano Dicono io c'ho 86 Eh vai sì Chi è quello che se la tira di più Eh chi c'è Loader Dai Loader Eh sì Un po' così dai Eh loader si vede io Anche se è piccolino dai Però Più piccolo di te Tranne meno di te Eccolo qui Si parla del diavolo E spuntano le corna Io sono quello blu Luca è quello rosso Adesso si entra sul serio Però nella vera partita Bocca al lupo Bocca al lupo Luca Fammi l'alzare Ti prego Fammi l'alzare Forza Perché davanti a tutto Questo pubblico Davanti comunque A una platea del genere Vuole esserci E lo vuole Ci vuole essere Comunque lo vuole fare Da protagonista Davvero protagonista Esatto Comunque partiamo subito Offensivi Noi abbiamo un Liverpool Davanti Che sicuro Non ci sottovaluta più Secondo me A questo livello Perché siamo in finale Quindi in finale Non si sottovaluta più nessuno Secondo me E quindi ragazzi Ce la possiamo giocare Avviso aperto Qui Teze Per Nelson Fermato dagli Uwis Pallone comunque Ancora nostro con Nelson Per Teze Tomiyasu Per Douglas Subito cercato Denny Loder Il numero 10 Attenzione Loder Il padone che resta lì Vierà Dopo 5 minuti Che papera ha fatto Allison Grande papera Che papera Vierà Oh incredibile Fai segnare pure Vierà Hai visto Eh tu Dicevi che Non era un giocatore Però Questa stagione Sta segnando più lui Veramente di tutti quanti Vediamo un po' Cioè secondo me Ha fatto una papera assurda Però Allison Guarda lì Eh si è buttato dopo Si è buttato Meglio per noi Meglio per noi Ha fatto una papera Vierà Con quei baffetti Eh gran colo di piede Ha fatto un gran colpo Eh Allison però Ci ha messo del su Ci ha messo del su Si Terzo gol in FA Cup È un po' il Matador Eh si Eh Cavani invece Sta in panchina Cavani sta in panchina Un po' incerrottato È venuto Si è preso i soldi Eh basta Eh E ora si doveva pure Un po' Qua Loader Oh siamo super aggressivi Ragazzi E infatti guarda Cavani sta pensando A ritiro Oh Matarese invece Adesso Per Viera Matador e Matarese Viera Dentro Fallo Era rigore quello Eh L'ha toccato male Attenzione Roberto Firmino Bobby Firmino Qui contro De Miral Palacios Attenzione perché potrebbe andare a lancio lungo Per Stadio Mané Non abbiamo fatto gol subito Però Ricordiamoci che dall'altra parte Abbiamo il Liverpool Quindi Comunque dobbiamo giocare sempre al nostro meglio Douglas Lewis Per De Miral Che forse sale un pochino troppo Attenzione perché Nelson si fa vedere Nelson subito Potremmo fare il gol della Attenzione No Ma che No Loader che ha sbagliato Come l'ha presa quella palla Ha svirgolata Ha sentito la pressione Eh immagino però Il tredicesimo 2-0 Eh bisogna fare due gole Perché se no Loro sono Sono sempre il Liverpool Guarda che se teniamo Ci mettono un attimo loro a fare il gol Esatto Hai capito bene Se teniamo così È un attimo che loro ci recuperino Loftus Chic Abbiamo visto che comunque è un giocatore in forma Dall'altra parte abbiamo un altro giocatore in forma Il quale si chiama Momo Salah E' un ottimo giocatore Attenzione Intanto Roberto Firmino Il traversone in mezzo A cercare Manek La controlla in qualche modo Ma Ramos No Che cavolo fa Troppo Sentono la pressione E' questo La differenza tra le due squadre E questa qui I miei sentono la pressione Però comunque è risultato dalla nostra parte Quindi Eh però Dobbiamo continuare così Io ho bisogno di te in campo Che li motivi Davvero capitano Perché Lo sto facendo Stai vedendo Sì sono carichi i giocatori Qua Eccolo qui Italia Stallion Subito l'1-2 Gioca anche di prima Attenzione Minamino Minamino Attenzione Se vede l'Italia Stallion Che potrebbe essere servito Viene servito Italia Stallion Dovevi farlo Secondo me Sull'altro palo Esatto Continua col destro Un mancino abbiamo visto Che Meglio il destro Meglio il destro Esatto Alexander Arno D'intanto la tocca Per Mohamed Salah Aggressivo Giorgino Bello Che oggi Dovrà Marcare uno dei migliori esterni In circolazione Alexander Arno D'intanto il traversone Per via centrale Roberto Firmino La stoppa Tutto il Solford addosso Firmino Qualtino Grande parata Grande Moravos Alla mezz'ora di gioco 1-0 Solford Si sta svegliando il Liverpool Sì Cross in mezzo Luca La spazza Pallone che resta lì No Il palo di Loftus Cic La girata al volo Vieira L'autore del gol Mamma mia Applausi da parte dei nostri tifosi Che comunque Che ci stanno incoraggiando Questo fa capire che ci siamo Attenzione Alexander Arno Intanto Sulla fascia Contro Nelson I due giocano Con Mohamed Salah La finta Nelson non ci casca Potremmo partire In contropiede Con l'Italia Stallion Che viene servito il numero Su Van Dijk Attenzione L'Italia Stallion Accelera lui L'Italia Stallion Non viene nessuno Allora Luca Fa tutto da solo Come vuoi Adesso si fa vedere libero Danny Loder Loder No Come fuori gioco Era bellissima Come azione No si No si Un po' in fuori gioco Lo era Dai Stai andando dritto Gli hai fatto quel numerino Van Dijk Va bene Dai ragazzi Stiamo giocando bene Non facciamoci prendere Troppo la mano Però perché un attimo Un attimo Palacios Sulla fascia La finta Su Tezze Palacios è veramente forte Ma Tezze Sa il fatto suo Loder No scusate Nelson Douglas Luiz Attenzione Madres la tocca La fa passare Forse non ci credono abbastanza Loro sbagliano Anche loro eh Eh si Sbagliano anche loro Stanno sbagliando abbastanza Qua l'Italia Stalion In mezzo a due Guardalo come lo butta lì Ah è fallo però Lo lascia a terra Palacios L'Italia Stalion Super on fire oggi Momo Salah Intanto per Alexander Arnold Lanciato attenzione Salah Viene rincorso da Demiral In mezzo c'è anche Tomiyasu Salah Decide di far tutto da solo Il pallo adesso dentro Per Loftus Che è ancora Salah Mo Aramos Eh Si sta facendo sentire Il portiere Fabinho adesso Dal corner È altissimo Mo Aramos Sbaglia l'uscita In questo caso Occhio perché No ok Sei alzato Per fortuna Mamma mia Minamino Grande Pallone ancora del Liverpool Con Palacios Ripartono da dietro Infatti c'è Nelson In aggressione Fabinho Ancora si riparta dietro Per Van Dijk Fabinho Palacios Attenzione al Liverpool Adesso che cerca In tutti i modi Di andare al gol Con Sadio Manel Numero di AC Tomiyasu Grandissimo intervento Del giapponese L'Italia Stalion Matarese Adesso per Douglas Ruiz Attenzione potremmo Partire in contropiedi Si fa vedere il numero 10 Viene servito dall'altra parte Forse la scelta Del Douglas Ruiz Sbagliata È stata la scelta sbagliata Perché aveva fatto Un ottimo movimento Comunque Danny Lauder Adesso il Liverpool Può ripartire con Firmino Che la apre a Sadio Manel Traversione in mezzo Attenzione De Miral Completamente fuori Posizione Meno male che Moramos Comunque Ha fatto una parata Semplice Eh stanno andando in palla Ragazzi Attenzione Manè dentro per Firmino Moramos Il Miracolo Tezze Douglas Ruiz La tocca adesso Vieira Ultimi minuti di questo primo tempo Tutti pazzeschi Attenzione Douglas Ruiz Perché siamo in 3 contro 1 4 contro 1 Douglas Ruiz Dentro L'1-2 Nooo Maramo in 4 Non ci sto credendo Abbiamo gestita male Bellissimo Dobbiamo cercare di fare il secondo gol Perché Eh guarda che Comunque hanno preso il palo Hanno fatto Ma Maramo sta facendo i miracoli Infatti guarda Primo piano proprio su di lui Allison ha fatto una bella papera Invece dall'altra parte Dobbiamo spingere il secondo tempo Dobbiamo cercare di fare il gol Perché le statistiche guarda Parlano chiaro Hanno tirato di più loro Più posso sopalla loro Quindi dobbiamo cercare di fare il secondo gol E chiudere la pratica Luca adesso sicuramente negli spogliatori Si dovrò incoraggiarli Di non mollare Di andare avanti Tu come stai messo? Vediamo un po' se sei Eh sto un po' stanno Oh vabbè Ni Ni Puoi ancora dare Ancora qualche fiammata E poi Mi hai fatto prima un'accelerazione La Georgie Way Up Ci vuole un bel gol adesso Ci vuole un bel gol Dobbiamo fare il gol Dobbiamo alzarla Sei capitano eh Andiamo dai Iniziamo sul secondo tempo Dai ragazzi Iniziamo il secondo tempo Siamo in vantaggio Ma il Liverpool sta spingendo tanto L'abbiamo visto Dobbiamo stare molto attenti Il pallone comunque Gira Quindi Ci ha dato le occasioni Ha dato le occasioni anche al Liverpool E adesso però guardate come sta entrando il Liverpool Con Momo Salah Che già Già ragazzi Sta per andare ad altre persone Infatti E la madonna Che cavolo di lancio ha fatto Trivela Mamma mia Mamma mia Nemmeno fosse Quaresma Nelson invece Adesso Tocca a lui Tocca a lui Tocca a lui Nelson accelera Quanto è veloce Nelson Mamma mia È un fulmine Nelson Attenzione Dov'è? Qualcuno in mezzo Nelson Nelson Il tocco No Fuorigioco Eh sì Era un po' avanti Loder Oh Loder Sempre in fuorigioco Che accelerazione Pazzesca ragazzi È una velocità incredibile Eh sì Rilancio adesso comunque Di Allison Momo Salah Addirittura la stoppa di petto Mamma che giocatore Salah Ancora lui Aggredito da Giorgino Bello Momo Salah Ancora lì però Demiral Ottimo questa volta Il recupero del pallone Vieira La torre del gol Per Minamino Si fa vedere Danny Loder Si parte centralmente Per l'Italia Stalino Matarese Che la gira Matarese contro Alexander Arnold Il terzino del Liverpool Però ferma tutto Attenzione Mané Roberto Firmino Adesso Palacios Potrebbe andare lui Al traversone Però preferisce Ripartire da dietro Stanno giocando Molto più tranquilli Devo dire Rispetto ai primi minuti Del secondo tempo Stadio Mané adesso Aggressivo Non perde palla Però il Liverpool È questo il fatto Fabinho Attenzione Sembrava gol Mamma mia Meno male che c'è Sto portiere Mi sembrava gol Te lo giuro Guarda che Era bellissimo Guarda come gliel'ha messa Eh si Con le manone Hanno fatto un cambio Sbaglio Si si Entra Brewster Al posto di Roberto Firmino Tommy Yasu Via al contropiede Con Minamino La alza Il pallone che rimane lì Van Dijk Ancora Palacios Attenzione Brewster Minamino Dietro Il pallone Che resta Nelso 2 a 0 Salford Te l'ha rubato Eh si Però è importante Aver fatto gol Dai Te l'ha rubato Grande gol 2 a 0 ragazzi Ci siamo Ci la dobbiamo portare a casa Questa partita Il pubblico Che sta esplodendo Accelerazione pazzesca Di Minamino Contropiede Nel momento migliore Del Liverpool Siamo riusciti a fare Il gol Forse che ha chiuso la partita Eh si Mi sa che questo gol E ha tagliato un po' le gambe A che minuto siamo 62 Siamo 28 minuti Però Dobbiamo continuare Dobbiamo fare il terzo adesso Dai dai Infatti Non c'è due senza tre Dobbiamo prenderci una vendetta Che Più che facciamo meglio è per noi Stiamo aspettando da tre anni Adesso ragazzi Il Liverpool Perde di nuovo palla Perché effettivamente Non si aspettava Una sconfitta del genere Douglas Attenzione L'Italia è Stallion L'Italia è Stallion No Che Damma mia Che brutta roba Devo ricontrollarla Posso dire che è anche un po' La stanchezza Dai Ci sta È la pressione Cercavo il golasso Lozano intanto Dentro al posto di Van E il Liverpool Le prova tutte Però Il 3-0 Sicuramente adesso Sarà super offensivo Eh sì Con Lozano Sicuramente nel 2023 Poi chissà quanto sarà veloce Lozano Nelson adesso Per Demiral Questo 2-0 Mi fa stare un po' più tranquillo Devo essere sincero Via Alexander Arnold Anticipa Momo Salah Ancora Alexander Arnold Il Liverpool Ha fatto il suo però Eh sì Sta comunque facendo una grande partita Però Noi siamo 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 veramente No giochiamo di cuore E questo è il fatto Che questa partita Noi la stiamo giocando di cuore Per il Liverpool Una semplice partita La solita finale Di FK Non conta nulla Esatto Per noi è la vita Quindi Oh l'anno prossimo Se vinciamo questa partita Siamo in Europa League Ragazzi È assurdo Qui l'Italia Staglione Tocco morbido Douglas Luiz In qualche modo La prova A far passare Però Palacios Sta facendo come sempre Un'ottima partita Grujic adesso Per Irving Lozano Che Provava la magia Qui Nelson Trattenuto da parte di Lewis Che in qualche modo Riesce ancora a tenere il pallone Oh Sei qua Sai che bisogna fare un cambio Sai siamo al 74esimo Abbiamo bisogno di esperienza Secondo me Le davanti Secondo me Matador Cavani Ci può aiutare Secondo me Sì la tenere lì Magari ti fa anche salire Tu sei a zero Morto Però devo resistere La devi alzare Cazzo Mancano Siano 15 minuti Ma Manca poco Dai ci siamo Ci siamo Fuori loader Applausi comunque Per il numero 10 Demi loader Dentro il Matador 36enne È venuto Si prende i soldi L'anno prossimo Si ritira Però ci potrà aiutare Qui Van Dijk Sbaglia completamente Tezzo adesso Potrebbe lanciare Minamino Che la tocca Che fallaccio Non è fallo Non fischiato Non è fallo Come fa non essere fallo Era netto quello Tezzo è incredibile Come la recupera Attenzione perché c'è anche il Matador C'è il Matador Nelson Attenzione Nelson Nelson dov'è Dove sei Dove sei Non ti trovo Non ti trovo Non ti sto trovando No Volevo Era gol quello Però volevo farti fare gol Dai possiamo Si può concedere questo errore Siamo a 10 minuti della fine Sì ma infatti adesso Guarda cosa faccio Ti metto Come prima punta Alla grande Mo' devi farlo Ma l'importante è vincere dai No ma sai perché Ormai lo faccio Perché il Liverpool Cioè anche in game ragazzi Si vede proprio Che il Liverpool Sbaglio Cioè non sta più pressando Non sta più No Più niente Cavani intanto Guarda che mi fa Il movimento È tutto visto L'Italia Staglio Di mancino Ti sei pure Contro Van Dyke Oh Non so che facendo Eh sì Mi sono anche fatto male Mimo ti fa uscire Ti immagini Che non la puoi alzare No 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 guarda che c'è di il cambio No no dai Adesso rimango qui fermo Non prendiamogliela Perché se no Se esce Ti fa fare il cambio Eh No no Ti immagino Mancano 7 minuti Mamma mia No Non facciamola uscire Stavate Esatto Gruglice Tomiyasu Vieira Cavani Fai infatti vedere L'Italia Staglio Anche da infortunato Anche da infortunato Il tocco proprio Per l'Italia Staglio Virgil Van Dyke Qui Si mette lì 4 minuti 4 minuti alla fine della partita Sta per succedere Sta per succedere Veramente Vieira Palacios Intanto Brewster Attenzione Stanno giocando Comunque ancora Vorrebbero fare il gol Della bandiera Più o meno Palacios Per Brewster Alexander Arnold Un minuto alla fine Brewster Tiene ancora il pallone Il numero 18 del Liverpool Sta per finire Gruglice Vieira Finisce qui Sta per finire Cavani La sta per spazzare L'Italia Staglio A tre dalla fine La cicca completamente Un gran fallo Si guadagna il fallo A tre dalla fine Nemmeno un minuto e mezzo Dalla fine Tomiyasu Per Douglas Lewis Sta per concludersi Sta per succedere veramente Vieira Per il Matador Cavani Attenzione Douglas Lewis No che fa E finisce qui E finisce qui Campioni d'Inghilterra L'AFK Nostra L'AFK Nostra Grande capitano Grande capitano Anche se non hai segnato Adesso godiamoci questo momento I ragazzi che festeggiano Vieira Douglas Lewis Lacrime virili in campo È successo veramente ragazzi È successo veramente Mi sembra Di star vivendo un sogno Guarda come Adesso salti Adesso è passato tutto Preparati perché adesso L'alziamo Preparati perché adesso L'alziamo Tutto pronto La colpa L'AFK Il primo trofe Del nostro Salford Importante La vendetta Dur 0 contro il Liverpool L'anno prossimo Premier League Ed Europa League Fra Tanta roba Il capitano Oh È che ci siamo Allee Che avrò Campioni Chiana vittoria Mamma mia ragazzi Ce la gustiamo proprio Fino alla fine Sopera Alzala capitano Alzala capitano Guarda Quante persone Mamma mia Guarda quante persone Eccolo Mamma mia Spettacolo, guarda come la vai a fare vedere a tutti Un'emozione fredda addosso, ti giuro Bellissimo, davanti ai tifosi che non ci saranno nemmeno a credere Abbiamo battuto il City, abbiamo battuto la United Adesso il Liverpool Io l'ho detto anche ai ragazzi nello scorso episodio Secondo me questa è la fine di un ciclo Perché comunque, cioè pensaci Primo anno di Ligiu Con la formazione, eravamo quelli che eravamo Abbiamo perso in finale contro il Liverpool E adesso, ultimo anno Diciamo del calcio che non conta Chiamiamolo così Perché poi l'anno prossimo abbiamo la Premier E è finita, proprio nemmeno farla apposta Con la vittoria dell'IF Cup Contro il Liverpool Cioè sembra veramente fatto apposta E adesso la squadra può festeggiare Adesso è giusto che festeggiano E' tutto meritato L'anno prossimo bisogna Europa League, Premier League Un sogno per tutti E adesso, Luca è stato veramente assurdo Adesso, come giusto che sia Ti lascia andare a fare le varie interviste Va bene, grazie Ci vediamo presto E ci ricordiamo questa vittoria fino alla fine E stasera si va A balare Esatto Grazie, ti lascio comunque all'intervista Grazie Bentornati, amici telespettatori Siamo qui con il capitano del Salford Luca Matarese Soprannominato anche l'Italia Stallion Luca, com'è andata questa partita? Che sensazioni provi? E' stata una partita fantastica All'inizio aveva un po' paura Perché affrontavamo una squadra fortissima Però alla squadra io l'ho detto Che era una partita difficile Però dovevamo stringere i denti Dovevamo affrontare qualsiasi problema Sarebbe venuto da davanti E penso che il campo ha dato le risposte Abbiamo vinto, abbiamo alzato la Coppa E siamo felicissimi Vi aspettavate una partita del genere? Sicuramente all'inizio non pensavamo di portare a casa questa partita Però adesso siamo felicissimi E' veramente stata sudata in tutti gli effetti Come andrà a festeggiare questa finale vinta? Andiamo tutti quanti a ballare Quindi ci divertiamo come giusto che sia E ci portiamo a casa Tanto di buono fatto quest'anno Non ti vorrei mettere subito pressioni Perché comunque avete vinto Avete vinto anche la Championship Quindi siete in un buonissimo momento Però l'anno prossimo avrete l'Europa League E soprattutto sarete in Premier League E beh, la Premier League è un campionato importantissimo E dove noi dobbiamo cercare di fare il più possibile Poi ovvio abbiamo anche un impegno importante Che l'Europa League non è da poco Quindi cercheremo di affrontare tutto Nei miglior dei modi E di far contenti queste persone Che oggi sono venute qui a sostenerci Ci hanno detto che comunque regalerai la maglia o sbaglio? No, no, è vero Regalerò la mia maglia La possiamo far vedere? Come no Maglietta Firmata sia da te che da mister? Per forza Maglietta firmata E non vedo l'ora di Darla al 20.000 e 1 E Follower Follower Ok E niente Sarà spedita All'indirizzo che voi ci manderete E in pochi giorni sarà la vostra Quindi Vogliamo far vedere magari la firma In live? Come no Possiamo farlo volentieri Ok tutto pronto per la firma Quindi ragazzi Le magliette sono firmate E ti lascio finire l'intervista Va bene grazie Quindi oltre alle magliette firmate Vorrei chiederti delle indiscrezioni di mercato Tu pensi di voler rimanere ancora al Salford? Devo essere sincero Comunque affrontare un campionato come la Premier League E una competizione importante come l'Europa League E' certo che la felicità di rimanere qui c'è Quindi io spero che la società mi tenga E mi lasci capitano E mi faccia affrontare questo ennesimo anno con la Maelsolf Con nuove sfide? Ovviamente nuove sfide E cercare di portare a casa qualcosa di importante con questa maglia Ultima domanda Il ritorno di Pieri Sì o no? Sì? Non sarebbe male Non sarebbe male Queste sono le indiscrezioni di mercato Però io faccio ancora i complimenti per la vittoria comunque Della F-Cup Per il raggiungimento della Premier League E appunto per il raggiungimento dell'Europa League All'Italia Stallion Luca Matorese Capitano del Salford Hai cresciuto questa squadra Ti sei preso in mano tante partite Hai collezionato tantissime presenze Tantissimi assist Tantissimi gol Io da giornalista ti posso soltanto fare i miei complimenti Ti vedremo su tutte le pagine domani Di tutti i più grandi tabloid inglesi Alzando quella coppa Grazie Grazie Sono contentissimo E te l'ho detto già prima Speriamo di andare avanti e alzare altri trofei Grazie Luca Bocca al lupo Grazie Da Sky Sport 24 è tutto A voi studio Ha 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 Grazie a tutti.